Quando una legge è ben scritta è più difficile riuscire a muoversi al suo interno. Quando una legge invece è scritta male e fa confusioni varie, la possibilità di interpretarla e quindi di cercare di spingere l'interpretazione del giudice nel modo che fa più comodo al proprio assistito sicuramente si rafforza, aumenta. Insomma mi pare chiaro che l'Italia al momento non abbia particolarmente bisogno di una legge che in questo caso potrebbe creare ulteriore confusione, le parlava di dubbi interpretativi. Assolutamente, secondo me non avrebbe in nessun modo bisogno di una legge di questo genere ma ancor meno avrebbe bisogno di leggi come quelle che alcune parti politiche soffiando sul fuoco dell'emotività della gente vogliono proporre perché si rischierebbe altrimenti di diventare un paese come il West americano cioè il Far West in cui la gente correva dietro le persone e gli sparava, ci mancherebbe. cioè non tutti sono in grado di maneggiare una pistola in una situazione del genere sparare a un ladro non è come sparare al poligono un soggetto che c'è al porto d'armi e va tutte le domeniche a sparare al poligono che magari si sente Tex Wheeler o va a caccia o spara per sport non ha necessariamente la stessa capacità di fronteggiare una situazione di pericolo come ce l'ha chi quelle armi le utilizza per lavoro trovarsi di fronte a un ladro, due ladri, un bandito, un rapinatore che ti entra dentro casa armato, mascherato, che magari minaccia un tuo familiare rendetevi conto non è così facile poi da utilizzare un'arma e da utilizzarla bene e da non entrare anche in una situazione emotiva che ti fa percepire in maniera sbagliata magari la situazione Messaggi dice questo nella nuova legge le eventuali spese processuali sono al carico dello Stato ecco questa è un'altra assurda particolarità della nuova legge cioè la nuova legge prevede che il soggetto che si difende e poi viene assolto vedrà rimborsate le proprie spese legali da parte dello Stato perché dico secondo me assurdo? è vero è un principio di per sé bellissimo perché tutte le persone che vanno sotto processo adesso ingiustamente dovrebbero essere rimborsate nelle spese legali questa è una delle prime cose che quando un cliente si trova sotto processo per la prima volta e non è un criminale e magari è andato sotto processo senza aver fatto nulla come a volte capita è la prima cosa che ti chiede all'avvocato dice ma avvocato ma se poi veniamo assolti io devo pure pagarla? o paga lo Stato? eh no dico mi dispiace paghi tu e devi pure ringraziare di essere assolto in questo caso lo Stato anche qui rispondendo a una emotività di richiesta da parte della cittadinanza in questo caso lo Stato fa una scelta diversa dice in questo caso se il soggetto poi viene assolto e viene considerata legittima difesa lo Stato si fa carico delle spese legali perché solo per questo reato? cioè se un soggetto va sotto processo per stupro per traffico di droga e magari è uno sbaglio, è un errore giudiziario capita tante volte non è giusto metterlo solo in questo caso a risarcimento esattamente non ha logica ma infatti queste sono tutte censure a questa legge che qualora entrerà in vigore secondo me prestano il fianco prestano il fianco a censure di legittimità costituzionale è una legge quindi